Hai mai sentito parlare di Piera Maggio e della sua storia? Se non lo hai fatto, ti consiglio di leggere questo articolo fino in fondo. Dopo vent'anni di lotta e dolore, Piera Maggio è ancora alla ricerca della verità sulla scomparsa di sua figlia Denise. La sua determinazione e la sua forza d'animo sono davvero ammirevoli. Piera Maggio ha deciso di raccontare la sua storia nel libro, Denise, un modo per esprimere tutto il suo amore per sua figlia e per far conoscere al mondo la verità che si cela dietro questa terribile vicenda. Non si tratta solo di una madre disperata alla ricerca di giustizia, ma di una donna coraggiosa che non si arrende di fronte all'ignoto. Durante la sua partecipazione a Domenica in, Piera Maggio ha parlato apertamente della sua ricerca della verità e della sua speranza di un giorno poter riabbracciare sua figlia. Nonostante le prove insufficienti e le false voci che circolano su di lei, Piera non si arrende e continua a lottare con tutte le sue forze. Recentemente, è emerso il ritrovamento di cimici nella sua casa, un fatto che ha riportato Piera agli anni passati e ha scosso nuovamente il suo cuore. La procura sta indagando su questo materiale per capire la sua provenienza e la sua data di installazione. È una situazione difficile da affrontare, soprattutto dopo vent'anni di incertezze e dolori. Nonostante tutto, Piera Maggio non perde mai la speranza. La sua determinazione e la sua forza d'animo sono davvero ammirabili. Dopo vent'anni di lotta e dolore, è ancora qui, pronta a fare tutto il necessario per trovare la verità su sua figlia Denise. La storia di Piera Maggio è un esempio di coraggio e amore incondizionato. Non importa quanto tempo sia passato, non importa quante difficoltà si siano presentate lungo il cammino, Piera non si arrende mai. La sua determinazione è contagiosa e ci insegna che non dobbiamo mai smettere di credere nella giustizia e nella verità. Quindi, la prossima volta che ti senti scoraggiato o demotivato, pensa a Piera Maggio e alla sua incredibile forza d'animo. Ricorda che anche nei momenti più bui, c'è sempre una luce che brilla in fondo al tunnel. E tu, sei pronto a lottare per ciò in cui credi, proprio come fa Piera Maggio ogni giorno?